Come sapete il Policlinico Gemelli è un centro clinico di eccellenza che opera sul territorio italiano su una vasta dimensione in termini di volumi gestiti ogni anno e soprattutto di domini di patologia analizzati per curare i pazienti. Ovviamente uno dei temi più complessi è quello delle patologie croniche e le patologie croniche autoimmuni sono un esempio particolarmente critico. Il lupus sistemico che è l'oggetto del progetto Agiles rappresenta uno dei domini di patologia più complessi perché coinvolge tanti domini di organo a partire da quello articolare cutaneo fino ad arrivare ad organi quali l'apparato renale e l'apparato neurologico tale da avere un impatto di severità e danni per i pazienti fino a rischi di mortalità veramente significativi. La buona notizia è che le terapie per curare lupus stanno evolvendo rapidamente, l'inserimento dei farmaci biologici ha arricchito le possibilità per il clinico e per il paziente di curare la patologia e questo sicuramente ha aiutato a costruire terapie sempre più personalizzate anche perché essendo ovviamente un carico farmacologico complesso, quello necessario per curare il lupus che è una malattia cronica, riuscire ad avere una terapia sempre più di precisione e personalizzata significa anche minimizzare per il paziente possibili effetti collaterali. Quindi la parola d'ordine è trovare una personalizzazione sempre più spinta. Un progetto come Agiles che deve affrontare quindi una patologia così complessa e strategie di cura sempre più accurate ha bisogno di una collaborazione multidisciplinare. Il progetto alla guida clinica dell'unità operativa complessa di reumatologia guidata dalla professoressa D'Agostino presso il Politeclinico Gemelli ha avuto il supporto di AstraZeneca e sul lato tecnologico la società Gemelli Digital supportata dal centro di ricerca Gemelli Generator di cui io faccio parte sono stati gli attori tecnici che hanno reso possibile il progetto. Quindi cosa abbiamo fatto in Agiles? In Agiles abbiamo cercato di utilizzare le tecniche di analytics e intelligenza artificiale per rendere operativa e costruire evidenza scientifica sulla enorme base di competenza rappresentata dalla conoscenza clinica e di dati rappresentati dall'enorme volume di pazienti curati negli ultimi circa sette anni che abbiamo utilizzato come base dati per costruire poi come dico dei modelli a supporto delle strategie di cura. Quindi che cosa abbiamo fatto all'interno di Agiles? Abbiamo utilizzato l'AI e la data science per analizzare un insieme molto ampio di referti, esprimerò qualche numero fra un attimo, e costruire un archivio di dati, quello che noi chiamiamo il data mart del lupus, che raccogliesse moltissime casistiche e moltissime evoluzioni nel tempo sia in termini di organi colpiti per i vari pazienti, sia in termini di episodi di infiammazione, di episodi severi in cui la malattia è evoluta nel tempo e delle terapie utilizzate per fronteggiare la patologia. Attraverso questo archivio di dati, attraverso il data mart del lupus, siamo riusciti a identificare dei fattori di correlazione importanti sia in termini di sintomi che in termini, come dico, di evoluzione e in termini di organi impattati, che ci hanno consentito di andare a costruire quelli che si chiamano i biomarcatori, quindi gli elementi composti che sono alla base dell'evoluzione della patologia nel tempo e attraverso i biomarcatori siamo riusciti a costruire degli algoritmi a supporto delle decisioni che vanno proprio nella direzione di capire in quel momento, per la situazione specifica del paziente, qual era la decisione più corretta da prendere in termini di personalizzazione di cura. Andando ancora di più nello specifico, siamo riusciti prima di tutto a utilizzare l'NLP, quindi la comprensione automatica dei referti per tirar fuori tutti questi biomarcatori di cui parlavamo in termini di organi impattati, di episodi infiammatori, di terapie farmacologiche. L'NLP è importante, il Natural Language Processing è importante perché la maggior parte dei contatti dei pazienti trattati e curati per il lupus sono ambulatoriali, quindi ci sono tantissimi referti a testo libero che hanno un'enorme base di conoscenza. Attraverso l'NLP abbiamo costruito quindi con i biomarcatori il lupus data, Mart che copre oggi un volume di 300 storie cliniche, come citato, e circa 6.000 contatti in 7 anni di evoluzione che è il tempo medio di follow up per questa patologia e attraverso questo abbiamo costruito gli strumenti a supporto delle decisioni e in particolare uno score di rischio che consente al clinico di valutare qual è il rischio che il paziente vada incontro ad un episodio severo di evoluzione della patologia nei 12 mesi successivi. In questo modo, valutando il rischio in modo quantitativo sulla base degli algoritmi, il clinico ha più strumenti per personalizzare la terapia. Quali sono per noi i prossimi passi? Ci sono tre direzioni di lavoro. La prima è ampliare all'interno del Gemelli l'utilizzo degli strumenti per coprire una fetta di pazienti più ampia e fare uno studio prospettico. Ovviamente per irrobustire, rendere ancora più solido gli algoritmi sarà necessario andare verso uno studio multicentrico, quindi coinvolgere nuovi centri clinici nella pipeline di ricerca che porta alla costruzione degli algoritmi. E infine, dal momento che parliamo di strumenti di medicina digitale, andremo a lavorare sull'ingegneria del software e sui processi di certificazione per rendere l'algoritmo in senso stretto un dispositivo medico certificato.